Dunque le cose stanno così. Poi dovete capire bene una cosa una volta per tutte. Noi anziani siamo una forza silenziosa e tranquilla, ma se ci incazziamo sono dolori perché siamo di più. Siamo tantissimi. Ogni 100 giovani ci sono 165 anziani. E questo significa maggioranza assoluta, e cioè virtualmente Camera, Senato e Governo della Repubblica. Abbiamo le TV perché condizioniamo i palinzesti e le linee editoriali. Gli inserzionisti pubblicitari intorno a cui ruota il mondo hanno noi come chiodo fisso. Sanremo, fatto per noi, e anche la grande fiction nazionale popolare. Le case di proprietà e i libretti di risparmio su cui si basa l'intera economia del nostro paese e senza i quali chiudevamo, come la Grecia, sono in mano nostra. Il teatro viene grazie a noi e anche quel che resta del cinema. E con il nodo pensioni teniamo in scacco l'intera economia nazionale. Ci basta solo un poco di consapevolezza e coesione in più e saremo pronti a fare il culo a tutti.